Vuoi dammi una borsa? Ciao Sì, sto confezionando il nodo Ok Alto il nodo? Sì Bene Ok Qui mi allongio al moschettone o al nodo? Al moschettone Ok Va in tensione sull'allongio Grazie Bravo e qui ora fino a dove scendo però non c'è altri frazionamenti 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 sì, arrivo sul fondo non c'è altri frazionamenti non c'è altro libera 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 a non basta anche io uso tecnico Michele mi sa ragazzi ci mettete il piedino per terra non succede nulla è una spiegata ho proprio disarmato la punta la disarmata e ripetere la linea io nel caso ci si perde si boi acqua e no no ah se ti do a me faccio meno zaino no ci provo ci provo ci provo quale piatti mettere la festa ma io sto troppo basso però sai fa come ti senti cioè poco male che bagno perchè questi che poi ti senti dare le impressioni scivolare non me la va è brava ora scendi qui qui vai vai grande guarda guarda vai 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 ci sono se battivo una musata lì che è qui 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 che figata che figata che figata lì che luci vai magari la pittura che Grazie. 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 No, 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 no. No, 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 no. Now it's in there is a sign. Now it's in there? Yes, yes. So I'm at a stitch. Maybe it's here. You're mano a vocaloira? Sometimes when water comes down. Yes, in front. a casa io mi consiglio quando sono corti sempre un po' più le palle grazie 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 bello come fa lecchia di capra perché Michele seppiato male perché non è venuto seppiato male perché non è venuto perché voteva non voleva farci voleva farci